Oh no, è morta la regina, a me si è morta la regina, a me si è morta la regina, ma mamma mia, che sacrificio leggo, veramente, io veramente, mi dispiace, ti dispiace la regina, perché sono grandi donne, le donne così non ce sono più, è vero, il 62,7%, quindi la regina, la regina, a lei con la regina, è un bambino, ora mi dispiace, senti lei, che lei dispiace, mi dispiace, è l'unica regina che stavamo, nel globo terrestre, a me mi dispiace, ma ce ne saranno altre delle regine, ma qua, non sto, io le prendo, E adesso è cosa, come si chiama? E la mia, la regina, la madre, la moglie e il figlio, viene la regina, viene la regina, smettala, ma che fa? E mi tira il pelo di fratti, mi viene a dire che fai? Guarda che sta parlando con Tania sta parlando, guarda che è cretino, ce l'ha con un cretino laggiù? Porca maia, la mignota, mi fanno pure azzolto! Che ha fatto? T'ha avuto? Chi è o no lui, che cane è? E' una mignota, chi è? Abbiamo anche il micino, o no? Come il chiamamo il micino? Eh? Mamma mia, cazzo, a me come chiami? Come il chiamamo il micino, no? Come il chiamamo? Pasquale! Sale, sale, c'è Pasquale, Pasqualino, gattino, il micino, Pasqualino, Pasqualino, il micino. Io lo chiamerei sto gatto, da me sto gatto è in carità. Sto gatto, guarda, guarda, guarda. Vedela! Oh no, che stai a fare? Sto che non mi cambia. Che? Che lì? Era pigiare il 4? Leveti. Pigia quello che alza il 4 e il 5. Leveti. Vedi come la fa? Era il salzizzo. Alza il 6. Leveti da avanti. Guarda, gliene da ridere sotto i bambini. Era pigiare il 4? Il prezzo è giusto, vai. Era pigiare il 4? Che era pigiare? Che cazzo lo pigiare? No!